L'indipendente con le notizie più importanti dal mondo. Venerdì 14 luglio 2023. Accadde oggi nel 1921. Gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti venivano condannati a morte negli USA. 50 anni dopo verranno riconosciuti innocenti. Attualità. I tagli sì ma solo al popolo. La Camera aumenta gli stipendi ai capigruppo. Una delibera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio ha disposto un'indennità aggiuntiva per i presidenti dei gruppi parlamentari della Camera pari a 2.226,92 euro lordi al mese, 1.269,34 euro netti. Le indennità, a importo dimezzato, coinvolgeranno anche i presidenti delle componenti del gruppo misto. Una sorta di risposta a Palazzo Madama, il cui consiglio di garanzia ha reintrodotto i vitalizi per gli ex senatori, come spiegato in un articolo dell'Indipendente. Scelte che hanno sollevato non poche critiche, soprattutto alla luce dei tagli alla spesa sociale, come l'abolizione del reddito di cittadinanza. Pochi giorni fa, Palazzo Chigi aveva lanciato, dedicata a te, la carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, rivolto esclusivamente alle «famiglie tradizionali», con un'isee inferiore a 15.000 euro. Nonnismo in caserma. Due militari condannati per la morte di Emanuele Sceri. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato gli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara per l'omicidio di Emanuele Sceri, il parà di leva morto nella caserma Gamerra nell'agosto 1999. I due militari sono stati condannati rispettivamente a 26 e a 18 anni di detenzione, al pagamento delle spese processuali, all'interdizione dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni. Il caso Sceri era stato riaperto nel 2017 dalla procura pisana guidata allora dal procuratore capo Alessandro Crini. Secondo la ricostruzione processuale, Sceri è stato picchiato la sera del 13 agosto 1999 e fatto precipitare da una torre. Il giovane morì dopo qualche ora di agonia e un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo. Panella e Zabara ricorreranno in appello. 123 medici contro la Virostar Bassetti, chiesto l'avvio di un procedimento disciplinare. 123 medici hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell'Ordine della provincia di Genova, Alessandro Bonsignore, per chiedergli di sottoporre la Virostar Matteo Bassetti a procedimento disciplinare. La richiesta è supportata da un lungo elenco di violazioni che, secondo i firmatari, sono state commesse dal celebre infettivologo, a partire dal primo paragrafo del giuramento per cui il medico deve esercitare la professione in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento. Poi l'accusa di, aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi dell'inoculazione definendoli cattivi maestri, e l'aver, insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali, antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina, poi rivelatesi estremamente efficaci. Esteri e geopolitica Ucraina, ultimi aggiornamenti Il generale ucraino Oleksandr Tarnavsky, comandante della Tavria Joint Forces Operation, ha confermato che l'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti le controverse bombe a grappolo, a cui abbiamo dedicato un focus sull'indipendente. Appena ricevute, non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente la situazione sul campo di battaglia. I vertici dell'esercito decideranno le aree in cui è possibile utilizzarle, ha affermato. Dalla Finlandia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato Putin ha già perso la guerra in Ucraina. Secondo gli ultimi aggiornamenti dal campo di battaglia le forze ucraine si sarebbero ritirate da Lugansk e vi sarebbero già entrate unità russe. Tra interessi economici e geopolitici l'Iran torna in Africa dopo dieci anni. Il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi ha iniziato un tour diplomatico che in Africa mancava da oltre un decennio. La prima tappa della visita è stato il Kenya, principale partner commerciale dell'Iran nel continente. Poi è toccato all'Uganda, mentre oggi sarà il turno dello Zimbabwe. L'Africa presenta un enorme potenziale economico praticamente inesplorato da Teheran. Durante la visita a Nairobi, Raisi e il suo omologo keniano William Ruto hanno firmato 5 memoranda su temi che spaziano dalla pesca alle tecnologie informatiche. Mentre la città keniana di Mombasa è stata individuata per l'apertura di una nuova fabbrica di auto iraniane, in Uganda Raisi ha offerto il proprio sostegno per la costruzione di una raffineria di petrolio. Aprire all'Africa vuol dire trovare un argine contro la pressione occidentale e soprattutto statunitense, che dal 2018 ha ripristinato le sanzioni. Brasile e Venezuela continuano sulla strada del riavvicinamento diplomatico. In un colloquio telefonico, i ministri degli esteri Ivan Gil del Venezuela, e Mauro Vieira del Brasile, hanno potenziato l'agenda di lavoro per continuare sulla strada del riavvicinamento diplomatico. Le delegazioni hanno concordato di sviluppare azioni congiunte in materia di commercio binazionale e far crescere il coordinamento economico e commerciale. È stato deciso di avviare la commissione amministrativa prevista nell'accordo di complementazione economica, firmato il 27 dicembre 2012. Come parte del ristabilimento delle relazioni, i governi del Venezuela e del Brasile hanno firmato due memoranda d'intesa, uno in materia agroalimentare e l'altro per avanzare nei programmi di sicurezza delle frontiere, nella cooperazione energetica e petrolifera. Ambiente Germania. Attivisti bloccano il traffico aereo, 12 voli cancellati. In Germania, negli aeroporti di Hamburgo e due Seldorf, alcuni attivisti di ultima generazione hanno varcato il perimetro di sicurezza e bloccato il traffico aereo incollandosi, letteralmente, al suolo delle piste. Di conseguenza, circa una dozzina di voli è stata cancellata. L'atto di protesta nasce per criticare l'inazione del governo nei confronti della crisi ecologica e dalla consapevolezza che se il traffico aereo fosse uno stato, sarebbe tra i primi dieci responsabili delle emissioni a livello globale. Brasile. Ancora allevamenti illeciti nelle terre indigene. Una nuova indagine ha dimostrato che gli allevamenti di bestiame situati nel territorio indigeno Uru e Uwo Uwo, nell'Amazzonia brasiliana, hanno rifornito due stabilimenti di confezionamento del colosso Ilunga BS, il quale vende poi carne bovina imballata ai marchi del gigante francese dei supermercati Group Casino. Nella maggior parte dei casi, gli animali non sono stati però trasferiti direttamente dagli allevamenti illeciti situati nella terra indigena alla Ilunga BS, ma sono passati attraverso diversi altri prima di arrivare ai macelli, di modo che non fosse più possibile distinguere la provenienza dei bovini. Questa manovra è nota come riciclaggio del bestiame e mira a nascondere qualsiasi origine potenzialmente illegale degli animali. Il gruppo francese ha dichiarato che i suoi fornitori sono tenuti a dettagliare il percorso di approvvigionamento e che controlla direttamente tutti gli allevamenti, ma spetta ai confezionatori di carne monitorare i fornitori indiretti. USA. Ancora troppi lavoratori dell'industria petrolifera muoiono inalando gas. Negli Stati Uniti sono ancora troppi i lavoratori dell'industria petrolifera che muoiono a causa dell'inalazione di gas tossici. Gli incidenti mortali sono legati alla pratica della misurazione manuale dei serbatoi, per la quale il governo degli Stati Uniti ha già avvertito riguardo la pericolosità. Secondo due agenzie governative, tra il 2010 e il 2014, almeno nove lavoratori sono morti per aver inalato gas durante tale attività ancora prevista dalle compagnie fossili. L'industria petrolifera tuttavia tace nonostante, dal 2016, almeno un'altra decina di lavoratori sembra abbia perso la vita. Tecnologia e controllo. Twitter presenta i risultati dello Shedoban. Il social Twitter ha pubblicato sul proprio blog un resoconto sui risultati dell'approccio moderativo Freedom of Speech Not Rich, la campagna di Shedoban che limita la diffusione dei «discorsi d'odio». L'azienda sostiene di aver segnalato più di 700.000 post, contenuti la cui diffusione si è ridotta fino all'81% con il risultato che un terzo degli utenti colpiti ha deciso di rimuovere dal portale il testo criticato. Twitter ha recentemente limitato l'accesso ai suoi dati, quindi i ricercatori indipendenti stanno avendo difficoltà a verificare la validità del comunicato. Al via all'intelligenza artificiale controllata da Elon Musk. La sua esistenza era già nota da tempo, ma ora il suo debutto è ufficiale. È stata lanciata a XAI, startup in mano a Elon Musk che si dedicherà a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale utili a comprendere la vera natura dell'universo. Il miliardario aveva in passato richiesto la sospensione della ricerca sulle IA. Tuttavia sostiene ora che la concretizzazione della sua proposta non sia realistica e che si è sceso in campo per offrire un'alternativa benigna a strumenti altrimenti distopici. In verità, Musk aveva già registrato la XAI Corp prima di pubblicare la missiva in questione. Grazie per aver ascoltato The Selection, la rassegna stampa dell'indipendente.